Somma arriva da Monza, Serie A a Pescara, ti chiedo subito con quale obiettivo? L'obiettivo lo sappiamo, Pescara è una squadra, una società che deve ambire al massimo, quindi la promozione. Quindi subito, obiettivo promozione? Sì, bisogna avere obiettivi importanti, bisogna crederci e lavoreremo per questo, poi speriamo di farcela. Plizzari è arrivato, è chiaro che Plizzari è un portiere di grosso spessore, arriva dal Milan, ti senti in concorrenza, quale deve essere il tuo ruolo? Penso che il ruolo e il portiere, se lo sappiamo tutti, è più delicato rispetto agli altri, c'è sempre una concorrenza che aiuta ad alzare il livello, la competizione è importante per tenere la concentrazione alta. Pescara sono passati grandi portieri e anche l'anno scorso abbiamo parlato tutti i ragazzi di tre portieri di livello alto, quindi quello sicuramente ha aiutato la crescita e questo sarà anche quest'anno. Tra l'altro uno dei tre portieri è andato a Monza, Sorrentino, nell'operazione che ha portato Te Lombardi qui, visto che nell'operazione doveva esserci e ci potrebbe ancora essere sia a Tunis, gli vuoi mandare un messaggio di venire a Pescara? L'ho sentito qualche giorno fa, sta valutando, aveva qualche offerta, sta valutando l'opzione migliore per la sua crescita, è un ragazzo giovane, quindi ha bisogno di giocare anche lui, deve valutare la scelta migliore per lui. Ma in caso che caratteristica ha lui? È un generampista, dinamico, ha una buona tecnica, è cresciuto molto l'anno scorso, anche se ha giocato poco, io ho legato molto con lui, non spogliato io e cercavo di dargli consigli perché ho qualche anno in più e ho visto che è cresciuto molto, è un buon giocatore sicuramente. Chiudiamo con la stessa domanda che ho fatto a Gianluca Germinario, lui ha detto che è cresciuto con l'idolo di Marchisio, Sommariva è cresciuto con quale idolo? Io Buffon, un po' scattato, però quando ero piccolo ho visto i mondiali del 2006, era il periodo migliore per Buffon, quindi ho sempre avuto lui come ispirazione, come modello.